che ho scelto per festeggiare il giorno del bacio è una pasta di Stefano Berruto dal 1881 è una pasta integrale biologica sono feneriate perfette per preparare una pasta fredda l'azienda Stefano Berruto è un'azienda antica del 1881 che produce in Piemonte esattamente a Camagnola e produce oltre a questo formato che ho scelto anche altri diversi formati di pasta e diversi tipi di pasta per le intolleranze per diete o per tutto ciò che volete realizzare il mio formato è questo piccolo integrale perché parola pasta fredda quindi integrale perché mantiene la cottura bastano soltanto 10 minuti per avere una pasta perfetta al dente quindi basta metterla in un contenitore di petro e poterla trasportare per esempio in riva al mare